Signore, 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 signore. Signore, 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 signore. Gesù si rivolse ad esse e disse, non c'è gente su di me, ma su di voi stesse e sui nostri figli, perché si avvicina il tempo in cui riceverete il castigo per i vostri peccati. Se è così cura la pena che Dio ha invinto a me che sono in noncente, che cosa sarà di voi che siete del peccato? Abbi pietà, signore. Abbi pietà, signore. Di tutti gli uomini peccatori. Abbi pietà, signore. Dei risonesti e degli sfruttatori. Abbi pietà, signore. Dei poveri e degli innocenti. Abbi pietà, signore. O Dio, tu non vuoi la morte, ma la confessione e la vita dei peccatori. Ascolta la nostra preghiera e per la sofferenza del tuo figlio conceda a noi la tua pace. Per Cristo nostro, signore. Amo. Santa madre e per la sofferenza del tuo figlio. E le chiave del Signore. Siamo impresse nel mio cuore. Non a stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E che è la tua santa croce dentro il mondo. Gesù sale al palvario come un agnello innocente che non oppone all'esistenza a chi gli dà la morte. Lui che non ha fatto torto a nessuno e non ha mai detto parole di menzogna, porta le colpe di tutta l'umanità e paga per noi peccatori. Ma l'intima tristezza di vedersi abbandonato da tutti, anche dagli amici più cari, è divenuta insopportabile. E Gesù, ancora una volta, si accascia al suono. Abbi pietà, signore. Abbi pietà, signore. Di chi è senza speranza. Abbi pietà, signore. Di chi è tradito dagli amici. Abbi pietà, signore. Di chi è solo nella vita. Abbi pietà, signore. Di chi soffre per un mondo più giusto. Abbi pietà, signore. Di chi è perseguitato per la sua fede. Abbi pietà, signore. O Dio, conforto di chi soffre e libertà degli oppressi, infondi in noi lo spirito del tuo figlio e fa che ogni uomo sperimenti la forza e la dolcezza della tua mano paterna. Per Cristo nostro Signore. Amo.